Come abbiamo detto, base vaniglia, caramello salato e araghie di salato. Amici di Bella Sicilia, eccoci qua a Sant'Anare di Brolo, ci troveremo anche domenica alla festa del gelato sulla Nazionale di Brolo e noi presenteremo il caramello salato. Eccoci qua. Parliamo di come è stato preparato questo. Allora, è una base vaniglia con caramello salato e gli araghie di salati. Facciamo adesso una bella coppetta. Come abbiamo detto, base vaniglia, caramello salato e araghie di salato. Vi aspettiamo tutti a Brolo domenica. Quale invito facciamo a tutte le persone che ci stanno guardando? Di venire a trovarci e assaggiare i nostri gelati, che sono buonissimi.